Retribuzioni più alte per i medici del Policlinico di Bari che sarà riconosciuto a tutti con gli arretrati che partono da inizio anno. Lo ha comunicato in una nota il Policlinico di Bari dopo aver raggiunto un accordo sindacale. Per quanto riguarda la parte dello stipendio destinata dal contratto, ci saranno riconoscimenti economici per i neoassunti e per gli incarichi di massima professionalità. Il direttore generale del Policlinico Bari, Sangue Dolce, ha ringraziato le organizzazioni sindacali sia per l'impegno che per la collaborazione. L'investimento nel personale sanitario è un investimento nel futuro del servizio sanitario pubblico. I giovani medici che scegliono di restare o venire nel nostro Policlinico dopo il percorso formativo daremo una retribuzione più alta.